il milan ieri è stato sconfitto 3 a 2 a bergamo dall'atlanta non sono bastate le reti di giru e iobici a portare a casa punti infatti la doppiata di lukman e la magia nel pieno recupero di muriel hanno permesso ai bergamaschi di ottenere i tre punti queste sono le pagelle che trovate sul nostro sito acmianinside.com dove trovate anche tutte le notizie riguardanti il mondo rossoliero pioli 3 l'allenatore deve incidere la mentalità dei calciatori e nelle scelte tattiche il milan non sembra una squadra l'atalanta non vinceva una gara in campionato dal 30 ottobre rendersi nei due è penalizzato pensare di avere magnana pio hernandez giru titolari di una delle tre nazionali più forti al mondo le auto mori purisic rendersi l'obstucic benasser eccetera e far rendere il giocatore del potenziale auto come dei giocatori normali no non va bene se batti il psg collettivamente e individualmente l'obstucic e leao hanno inciso in maniera importante con strappi da giocatori importanti vuol dire che la rosa c'è ed è anche forte magnana 7 prende tre gol imparabili ma fa l'ennesimo miracolo stagionale seconda della doppia parata da top calabria 4 e mezzo partita brutta e nel momento decisivo commette un'ingenuità che un giocatore con la fascia a braccio non può commettere tomori 5 oggi meno bene sfortunato nell'occasione del gol e non bene sull'occasione del miracolo di magnana gioca con un centrale non di ruolo e li complica le cose tornandes 5 non è il suo ruolo fa il massimo ma nei primi due gol non è completamente esente da colpe non si doveva arrivare a schierarlo dal centrale il match così importante reinders 5 e mezzo gioca nei due e non è il suo ruolo la pericolosità e le geometrie offensive in quella posizione vengono meno ma corre e aiuta sempre tutti musa 5 e mezzo si impegna molto copre corre e si inserisce partita non è cessa tecnicamente ma da sempre tutto l'obstucic 6 la fisicità la mette sempre prova più di qualche volta ad inserirsi ed a inizio secondo tempo serve una palla d'oro a girum su cui 5 non bene salta una volta all'uomo è timido e fa sempre la giocata più semplice pulisic 6 e mezzo partita generosa prova sempre a creare qualcosa bene tecnicamente e serve l'assist per il pareggio di jordic girù 6 e mezzo gioca a sponda fatto bene più nel primo tempo duetto un paio di volte con pulisic e segna un gran gol benasser 6 finalmente sta meglio e si vede da oggi il mina avrà un armi in più della sua creatura adri 5 non bene nell'occasione del gol di muria in ritardo e non deciso i ovvici 7 criticato pesantemente fino a qualche settimana fa panchinato ingiustamente entra a settantaduesimo gioca bene qualitivamente si sacrifica difensivamente e pareggia la gara con pochi minuti a disposizione bene così queste sono le pagelle che trovate sul nostro sito acmilaninside.com e seguite tutti i nostri canali social come facebook instagram twitter telegram e twitch ciao 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 ciao